atti notarili di compravendita c'è o non c'è questa benedetta obbligo di fare una relazione tecnica di effettuare tutte le verifiche eccetera e a questo punto rispondiamo alla alla domanda intanto vi metto miei riferimenti social che vedete qui per chi vede in diretta facebook o per chi vede su quest'altro canale carlo paglia ingegner urbanista studio tecnico pagliai punto it e anche su tutti i vari riferimenti social però rispondiamo allora alla domanda devo o non devo fare la le verifiche di stato legittimo dell'immobile la risposta c'è la risposta la troviamo nell'articolo 34 bis del testo unico al comma 3 perché perché mi dice le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso del precedente intervento edilizi non costituiscono violazione edilizie e sono dichiarate dal tecnico abilitato non dal venditore non dal compratore ai fini dello stato attestazione dello stato legittimo degli immobili nella modulistica relativa a nuove istanze comunicazione segnalazione edilizie ovvero un'apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento costituzione ovvero scioglimento della comunione di diritti reali allora avete capito sa ci ha detto il legislatore nel luglio 2020 col decreto aiuti aiutino bisogno io decreto semplificazioni 76 2020 quando è venuto a rimodificare un po il testo unico e ha aggiunto ha rivisto tutta la definizione di tolleranze edilizie e ha introdotto anche la definizione di stato legittimo ora la definizione di stato legittimo in verità era nota e arcinota in giurisprudenza cioè che tu potessi toccare trasformare l'immobile soltanto se era libero da abusi illeciti violazione edilizia di ogni tipo era nota e arcinota e non c'era dubbio solamente che il legislatore ce l'ha metto ce l'ha messo per iscritto ora la cosa veramente importante è che la norma c'è ora non c'è più discussione a volte ho letto ma in quella regione in quella zona in quelle province l'ordine tal dettagli ha fatto una convenzione con quell'altro ordine per fare mettere l'obbligo di relazione tecnica nelle compravendite ok figo sì ma in verità questo obbligo ce l'ho già dal 2020 scala nazionale perché ripeto articolo 34 bis comma 3 del testo unico edilizia quindi vale da trieste in giù o vabbè le regioni hanno voluto mettere lo zampino in male e anche in bene ma c'è questo obbligo e la questione mi diventa importante soprattutto quando vi ricordate cosa dice poi l'articolo 134 del testo unico quello che dice guarda compratore o affittuario che te hai un anno di tempo per poter avanzare richieste danni nei confronti del venditore locatore un anno di tempo da cosa da quando scopri l'abuso o da quando avresti potuto scoprirlo aggiungo io ne abbiamo parlato poi trovate riferimenti dei link sotto in descrizione però se io legislatore dico a tutti venditore quanto compratore guardate avete l'obbligo di prendere un tecnico abilitato quindi detto ingegnere geometra aperito ok perché questo faccia lui la dichiarazione asseverata allegata all'atto di compravendita poi poi non c'è scusante per nessuno e poi la buona fede ve la friggete nel vero senso della parola non vi tutela nessuno e vi daranno come dire vi daranno un po filo da torcere se andate davanti a un giudice perché appunto questo obbligo è tra l'altro in questa normativa in quest'articolo non c'è scritto e aspetta al venditore o aspetta al compratore non guardano faccia a nessuno tutti venditore compratore tutte le parti praticamente devono attivarsi per fare in modo che ci sia questa dichiarazione e pertanto questo tipo di verifica e allora come si può iniziare a inquadrarla la faccenda la faccenda è messa così puoi vendere casa puoi comprare casa devi premunirti di un tecnico che ti assista queste verifiche a questo punto il tecnico chi lo mette in campo e qui è libero arbitrio perché la norma mi dice anzi sostanzialmente non mi dice non mi impone niente al riguardo mi dice voglio che ci sia una dichiarazione asseverata allegata quindi è una dichiarazione in cui il tecnico a tutte le verifiche le verifiche rispetto a cosa mi dichiara che il rispetto allo stato legittimo rispetto a tutte le pratiche edilizie a ristrutturazioni tutte nessuna esclusa ok mi dice che l'immobile nello stato di fatto in cui è oggi quindi ci vorrà anche un rilievo no è un rilevo anche fatto bene non è che un rilievo fatto così quel metro a stecca ad un appartamento grosso eccetera no forse bisogna mangiare a ragionare entrano nell'idea dei laser scanner per velocità e per complessità rilievo dello stato attuale lo confronto in maniera faccio proprio una valutazione comparativa di stato legittimo tra verso lo stato legittimo se le differenze stanno entro le tolleranze il 2 per cento eccetera poi c'è le tolleranze minori esecutive insomma c'è vari livelli allora a quel punto si comincia a ragionare di verifica della conformità dell'immobile rispettata eccetera ora giustamente qualcuno di voi mi dirà altrimenti che succede come vengo punito io venditore o compratore al momento in cui emerge che non è stato rispettato l'obbligo in qualche modo è stato venduto l'immobile senza alcun tipo di verifica senza l'ausilio di tecnici allora la norma a oggi e siamo al 29 maggio 2023 non mi dice niente non mi dice pena nullità appena risoluzione pena danni o sanzioni pecuniarie ma secondo me legislatore tempo poco ci torna sopra è su questo argomento perché un deterrente punitivo lo dovrà ammette perché è inutile metta l'obbligo se non mi mette poi la sanzione o la punizione questo è concetto cosa molto importante allora consiglio molto importante voi quando andate davanti al notaio ma addirittura anche prima di andare davanti a un preliminare o una proposta di acquisto o prendete il vostro bel tecnico vi fate fare le vostre belle verifiche eccetera comunque cosa succede rispondiamo a questa domanda allora prima di rispondere però vi chiederei bellissimo like potete anche condividere sto video tra amici operatori del settore a chiunque perché è un'informazione molto importante ok questo è lo apprezzerei molto cosa può succedere appunto quando poi succede l'incidente di percorso e quindi due persone venditore e compratore andranno in tribunale a quel punto deciderà il giudice perché l'obbligo comunque c'è se no che ci sta a fare deciderà il giudice caso per caso in base alle richieste questione nullità non credo possa essere sollevata perché la nullità almeno quella formale l'abbiamo vista stanno in regime di commerciabilità nullità sostanziale è è che ci dice che possa in futuro saltare fuori rientrare dalla finestra la nullità sostanziale qui e qui c'è mani libere veramente qui può succedere di tutto e allora visto che può succedere di tutto a maggior ragione fate in modo come dice anche antonio quindi commenti la logica richiederebbe che venga attestata da un tecnico del venditore e riverificata da un tecnico acquirente con carte complete alla mano infatti uno per parte uno per venditore uno per compratore insieme lavorano guardano cosa è conforme cosa non è conforme come superarlo queste cose eccetera ma l'approccio è quello di evitare problemi prima che sta troppo tardi intanto fatemi sapere anche voi nei commenti cosa succede nelle varie città se ci sono comunque queste convenzioni tra ordini tra tecnici magari ordini forenzi notai eccetera sul applicare un obbligo diciamo un obbligo volontario diciamo così nel far verificare prima immobili e redigere delle relazioni tecniche adeguate aggiungo io io direi io rincara anche la dose qui se mi c'è ragionati due diligence non la relazioncina da due paginette la nota tecnica a volte la sento chiamare no basta usiamo già fa sì serio ma costa tanti soldi non costa due 300 euro esatto l'altro giorno per esempio sono andato a tenere un corso a torino da giuseppe gatti che salutiamo perché è stato veramente bello fare un partecipare a quel seminario insieme anche al preparatissimo avvocato squassoni veramente bellissima esperienza è stata fatta un'obiezione una domanda un'osservazione ma è il perito della banca quando viene a vedere l'immobile per il mutuo perché non lo fa queste verifiche le deve fare ecco effettivamente si è posto il problema le deve fare no più sarebbe un nì ma è più no che sì perché perché non si deve esprimere su altre cose certo fossi un perito bancario mi esprimerei con le dovute riserve cioè mi avete chiesto se in condizioni di piena regolarità quanto vale l'immobile ai fini della copertura del mutuo io mettere dei paletti poi se l'immobile è totalmente abusivo o ha delle difformità irrisolvibili da parte queste cose questo è il la mia opinione michela quando il tecnico è unico sia del venditore compratore non rileva il problema prima il preliminare è male male molto male il tecnico della banca di nuovo tecnico della banca l'abbiamo appena detto non non è tenuto lui a fare questo tipo di asseverazione perché questo tipo di asseverazione obbligatoria non ci sta il legislatore non ce l'ha detto per favore un obbligo però lui il tecnico perito della banca non lo deve fare questo è molto chiaro allora io direi ho affrontato rapidamente l'argomento lo so in verità lo so è vastissimo ci vuole ore e ore per non dire giorni per affrontarlo io direi se siete d'accordo magari di ritornare su questo argomento con anche con i vostri commenti fare una live interattiva in tutti i sensi vi chiederei allora un ultimo like moment e potete anche condividere con il tasto condividi share dove volete su tutti i vari social o comunque potete continuare a seguirmi su tutti i vari riferimenti e trovate in giro nel link in descrizione il mio blog studiotecnico pagliai punto it e così potrete anche chiedere consulte ai pareri tecnici alle vostre relative fattispecie che saranno preventivati e tariffati come mi sembra giusto per reciproca correttezza bene io direi a questo punto di chiudere intanto il la registrazione da questa parte e aspettando che anche sui prossimi contenuti live infine invece vi per quelli che seguono in diretta inizio con i miei migliori saluti